Benvenuti e benvenuti a questo nuovo video tutorial di Orizzonte Scuola sulla compilazione della domanda per l'inserimento o per l'aggiornamento delle gradatorie provinciali per le supplenze e delle gradatorie d'istituto per il personale docente ed educativo. La domanda potrà essere presentata dal 20 maggio fino alle ore 23.59 del 10 giugno attraverso il solito portale Polis Istanze Online. Per trovarlo basta digitare alcune parole chiave come Istanze Online su un qualsiasi motore di ricerca oppure si può accedere anche dal sito del Ministero dell'Istruzione o attraverso il portale INPA. Una volta effettuato l'accesso si può cliccare qua in alto in questo banner giallo sul gradatore provinciale supplenza accedi direttamente da qui oppure come al solito qua nella colonna di sinistra. Successivamente sarà richiesto il login che si potrà effettuare attraverso uno di questi quattro servizi. I più comuni sono lo speed e la carta d'identità elettronica. Una volta effettuato il login ritorniamo nella pagina principale clicchiamo sulle gradatori provinciali per le supplenze leggiamo l'informativa, clicchiamo su preso visione dell'informativa e poi su accedi. In questa pagina bisogna selezionare il tipo di operazione e la provincia. Nel mio caso trattandosi di aggiornamento è possibile selezionare solamente voci relative all'aggiornamento. Se si volesse modificare la provincia rispetto a quella del precedente biennio bisognerebbe selezionare come tipo di operazione trasferimento e aggiornamento e indicare sotto la nuova provincia di destinazione. Se invece si volesse semplicemente aggiornare senza modificare la provincia bisognerebbe selezionare aggiornamento e in questo caso la provincia non è cliccabile. Clicchiamo su avanti. Dopo aver verificato la correttezza dei propri dati personali clicchiamo ancora su avanti e accediamo all'istanza. Per chi sta aggiornando i titoli e i servizi precedentemente dichiarati non devono essere inseriti nuovamente è il motivo per cui infatti qui alcune sezioni risultano già compilate. Per prima cosa compiliamo le gradatorie in cui vogliamo inserirci quindi le diverse classi di concorso e o posti. Per farlo andiamo sulla sezione scelta gradatore di interesse clicchiamo su azioni disponibili e poi su accedi. Qui visualizzeremo le gradatorie in cui siamo già inseriti. Per aggiungere nuove basta cliccare in fondo su aggiungi gradatoria. Per prima cosa selezioniamo il tipo di gradatoria. I tab 1 e 2 sono per la scuola primaria e dell'infanzia. Tab 1 per la prima fascia quindi per gli abilitati. Tab 2 per gli iscritti in scienze della formazione primaria almeno al terzo anno con almeno 150 crediti. Poi abbiamo la scuola secondaria posto comune. Tab 3 per la prima fascia quindi gli abilitati. Tab 4 invece per coloro che hanno il titolo per insegnare in una classe di concorso ma sono privi di abilitazione. Sempre nella secondaria abbiamo poi le classi di concorso per ITP. Tab 5 per la prima fascia quindi abilitati. Tab 6 invece seconda fascia per non abilitati. Poi abbiamo le gradatorie su sostegno. Tab 7 la prima fascia quindi per gli specializzati. E tab 8 per la seconda fascia quindi per coloro che hanno tre anni di servizio sul sostegno nello stesso grado. Infine il personale educativo. Tab 9 per gli abilitati corrisponde alla prima fascia e invece tab 10 per i non abilitati che corrisponde alla seconda fascia. Le ho elencati brevemente ma per i dettagli sui titoli di accesso vi rimando all'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale numero 88 del 2024. Ora a titolo di esempio ci inseriremo nella prima fascia per primaria infanzia. Come tipologia di posto è possibile selezionare tra infanzia primaria e la nuova gradatoria di scienze motorie nella scuola primaria. Supponiamo di inserirci nella scuola primaria e indichiamo il titolo che ci dà accesso a tale gradatoria quindi quale tipologia di abilitazione. Supponiamo sia la laurea in scienze della formazione primaria quinquennale e poi indichiamo la data di conseguimento, l'istituzione di conseguimento, il voto di laurea, facendo attenzione anche alla base, chiaramente le nostre lauree sono in centodecimi e automaticamente il sistema converte la valutazione in centesimi. Attenzione a questo riquadro, deve essere spuntato esclusivamente da coloro che hanno un titolo il cui giudizio finale non è quantificabile in termini numerici. In questo caso sono assegnati otto punti di default mentre invece, senza selezionarlo, il sistema calcolerà automaticamente il punteggio relativo al 95 centesimi, e cioè 11 punti. Infine compiliamo la sezione A2. Se andate a vedere la tabella 1 allegata all'ordinanza ministeriale numero 88 vedrete che il punteggio relativo al titolo d'accesso è diviso in due sezioni. La sezione A1, che abbiamo già compilato, assegna fino a un massimo di 12 punti per il voto dell'abilitazione. La sezione A2, invece, assegna un punteggio diversificato a seconda del titolo di abilitazione. Quindi bisogna prestare attenzione alla voce che si seleziona. In questo caso dobbiamo spuntare la seconda voce, che è quella relativa alla laurea in scienze della formazione primaria quinquennale. Infine inseriamo la durata legale con l'anno accademico di inizio e quella di fine. E clicchiamo su inserisci. Osserviamo che compare questo messaggio in verde che ci avvisa che l'operazione è stata eseguita correttamente. Se capitasse di compilare qualche campo in modo erroneo, comparirebbe un messaggio in rosso indicando anche la tipologia d'errore. La domanda è infatti ben guidata. Vediamo ora come compilare la prima fascia per quanto riguarda la scuola secondaria. Andiamo quindi nella tab 3 e vi mostro direttamente come ho compilato questa sezione cliccando su Azioni disponibili e poi su Visualizza. Dobbiamo selezionare il tipo di gradatoria, in questo caso tab 3, la classe di concorso e la specifica modalità con la quale si è ottenuta l'abilitazione. Tra le più comuni abbiamo il superamento di un concorso abilitante, come lo sono stati il concorso straordinario 2020, i due concorsi STEM e il concorso ordinario baddito nel 2020, svolto nel 2022. Ancora tra gli altri percorsi di abilitazione più comuni abbiamo i PASS, il TFA, chiaramente si intende il TFA su materia, e poi abbiamo anche i nuovi percorsi di abilitazione introdotti con la riforma Bianchi, i percorsi abilitanti universitari da 60, 30 e 36 crediti. Attualmente sono stati banditi solamente quelli riservati a docenti già abilitati o specializzati sul sostegno, quindi solamente questa categoria di docenti potrebbe selezionare questa voce. Ricordo che se il titolo di abilitazione si conseguirà entro il termine ultimo di presentazione delle domande, si dovrà spuntare questa voce. Se invece si otterrà successivamente alla scadenza delle domande, ma entro il 30 giugno, bisognerà invece spuntare quest'altra voce. E successivamente bisognerà poi sciogliere la riserva. Nel caso di abilitazione tramite concorsi abilitanti, bisogna specificare la procedura di abilitazione, la data di conseguimento e come istituzione l'ufficio scolastico regionale del concorso. Inoltre bisogna inserire il punteggio dell'abilitazione. Nel caso di abilitazione tramite concorso, il Ministero nella fac numero 49 del precedente bienio delle GPS aveva chiarito che bisogna indicare il punteggio finale, quindi quello indicato nella gradatoria di merito. E automaticamente il sistema lo convertirà in centesimi. E come per la tab 1 che abbiamo visto prima, anche qui bisogna prestare attenzione a questo riquadro. Deve essere selezionato esclusivamente in quei rari casi in cui il titolo di abilitazione non è quantificabile in termini numerici. In questo caso si assegnano 8 punti, mentre invece assegnando un punteggio numerico si può avere fino al massimo di 12 punti. E come per primaria infanzia, anche qui per la prima fascia della secondaria viene assegnato un punteggio sulla base del voto di abilitazione e nella sezione A2 viene assegnato un altro punteggio sulla base della tipologia di abilitazione. In questo esempio abbiamo dovuto selezionare l'abilitazione conseguita attraverso il supermento del concorso. Una volta completato, si bisogna inserire la data di pubblicazione della gradatoria e la regione del concorso. Torniamo indietro e vediamo ora un esempio per quanto riguarda la tab 4, quindi seconda fascia dei posti comuni della secondaria a cui si accede con la laurea. Bisogna selezionare il tipo di graduatoria, in questo caso tab 4, la specifica classe di concorso, la tipologia di titolo che ha dato accesso alla classe di concorso. Nella stragrande maggioranza dei casi una laurea di secondo livello. Bisogna poi specificare il titolo di studio, la data di conseguimento, l'istituzione presso la quale è stato conseguito il titolo, il voto di laurea. Nel caso della lode bisogna spuntare questa voce. Invece, quest'altro riquadro deve essere spuntato esclusivamente nei particolari casi in cui il voto del titolo di accesso non è esprimibile in termini numerici. Infine, per alcune classi di concorso è necessario compilare anche questa sezione sui titoli congiunti. Deve essere compilata in tutti quei casi in cui il titolo di accesso richiede anche un titolo congiunto. Ad esempio, per quanto riguarda le classi di concorso musicali, i diplomi accademici vecchio ordinamento dei conservatori sono titolo di accesso purché congiunti ad un diploma di scuola secondaria di secondo grado. Se invece nelle tabelle del DPR numero 19 del 2016, del decreto ministeriale numero 259 del 2017 e successive aggiornamenti non è specificato nessun titolo congiunto per la propria laurea, bisogna lasciare questa sezione vuota. Non bisogna inserire gli eventuali crediti maturati per avere titolo di accesso completo per la propria classe di concorso. Tali crediti sono necessari, ma nel momento in cui ci si inserisce in una classe di concorso, si sta implicitamente autodichierando di possedere tutti i requisiti completi, compresi i crediti, anche se non vi è una sezione apposita in cui elencarli. Torniamo indietro nella pagina principale della domanda. Passiamo ora alla compilazione della seconda sezione, quella relativa ai titoli culturali valutabili. Come specificato nell'ordinanza ministeriale, i titoli culturali vanno inseriti in ogni tab, questo perché sebbene le gradatorie abbiano delle tabelle molto simili fra loro, presentano alcune differenze e quindi bisogna ripetere i titoli in ogni tab. A titolo di esempio, vediamo ora la tab 4. Nel punto B1 è possibile farsi valutare lauree di secondo livello, ma attenzione che non costituiscano il titolo di accesso di cui è al punto A1, cioè devono essere lauree ulteriori rispetto a quella già dichiarata per l'accesso alla classe di concorso della secondaria seconda fascia. Quindi, ad esempio, possiamo farci valutare come ulteriore la laurea in scienza della formazione primaria. Clicchiamo su Aggiungi, selezioniamo il tipo di titolo di studio, può essere una laurea vecchio ordinamento, magistrale, specialistica. Selezioniamo poi la specifica laurea, vi è un elenco con tutti i codici, se però non si trova quello desiderato, si può selezionare altra laurea e poi specificare qua l'esatta denominazione del titolo. Bisogna poi indicare la data di conseguimento del titolo. e l'istituzione. E clicchiamo su Modifica per modificare la sezione rispetto a come era stata compilata nell'aggiornamento precedente. Facciamo ora alcune osservazioni sui titoli più comuni e gli errori più tipici. Il punto B2 può essere compilato da tutti coloro che possiedono una laurea triennale che però non deve costituire titolo di accesso al titolo che è stato già dichiarato per l'insegnamento nelle classi di concorso. Ad esempio, noi abbiamo effettuato l'accesso con una laurea magistrale in matematica a cui si è avuto accesso con una laurea triennale in matematica e quindi quest'ultima non può essere dichiarata in questa sezione. Può essere invece dichiarata un'eventuale ulteriore laurea triennale, per esempio una in fisica. Il punto B3 può essere compilato da tutti coloro che hanno un diploma presto un ITS che, attenzione, non è l'ITIS, l'ITS appartiene all'istruzione post-secondaria. Il punto B6 può essere compilato da tutti coloro che hanno superato le prove di un concorso ordinario anche senza necessariamente averlo vinto. Per quanto riguarda il concorso in corso, è possibile compilare questa sezione se l'Ufficio Scolastico Regionale ha già pubblicato gli atti conclusivi del concorso. Questo era già stato specificato nella FAC numero 44 del precedente aggiornamento. Se il concorso ordinario superato era anche abilitante, si può compilare questa sezione se non è stata compilata la sezione B4 con la relativa abilitazione. Cioè in questi casi bisogna scegliere quale fra queste due sezioni compilare. Tra gli altri titoli più comuni abbiamo il CLIL, per il quale esistono diverse voci. Quale bisogna compilare? Bisogna controllare i riferimenti normativi presenti in ogni voce. La maggior parte delle persone però possiedono quello che troviamo nel punto B13, cioè il corso di perfezionamento di 60 crediti congiunto a una certificazione linguistica. Se non si possiede la certificazione linguistica di livello almeno B2, il corso di perfezionamento può essere valutato nel punto B15 insieme ai Master. Una volta conclusa la compilazione, torniamo indietro. Passiamo ora alla compilazione dei titoli di servizio. In fondo troviamo servizi precedentemente dichiarati in testa servizi svolti in scuole statali che non sono stati ancora inseriti e che è possibile importare direttamente nella domanda. Se invece avessimo svolto dei servizi che non sono poi presenti, è possibile inserirle manualmente cliccando in fondo su Aggiungi titoli servizio. Per prima cosa dobbiamo indicare la classe di concorso opposto su cui far valere il servizio come specifico punto C1 o come a specifico punto C2. Attenzione perché questo non significa che il servizio che stiamo inserendo verrà valutato esclusivamente nella gradatoria di A27. Il sistema calcola in automatico il punteggio come a specifico anche in tutte le altre classi di concorso. Indichiamo l'anno scolastico. Questa voce deve essere spuntata esclusivamente da coloro che hanno prestato il servizio in scuole private non paritarie iscritte negli albi regionali. E attenzione perché per questa tipologia di scuole il punteggio è dimezzato. Se il servizio è stato prestato in Italia si seleziona No e poi bisogna indicare la specifica classe di concorso in cui è stato svolto il servizio. Come tipologia di servizio è possibile selezionare la voce A.C1 se stiamo dichiarando che è un servizio specifico svolto in scuole statali oppure paritarie. B.C1 significa che è un servizio sempre specifico svolto nell'istruzione e formazione professionale. Il punto C1 si riferisce a servizi specifici attraverso particolari progetti regionali come il sardo tutti ai scuola e il pugliese diritti a scuola. Il punto D.C1 invece si riferisce a servizi specifici in scuole di paesi esteri o di ordinamento estero in Italia riconosciute. Gli altri quattro punti sono riferiti alla stessa tipologia di servizi ma a specifici. Nel nostro esempio selezioneremo A.C1 perché vogliamo che il servizio sulla classe di concorso A27 sia caricato sulla A27 come specifico ed è un servizio svolto in una scuola statale. Questa voce invece devono spuntarla a coloro che stanno maturando le tre annualità di servizio su sostegno nello stesso grado per inserirsi nella seconda fascia delle GPS sostegno. Nel nostro caso la lasceremo vuota. Indichiamo la data di inizio e di fine contratto. Per quanto riguarda i contratti in corso, l'ultima data utile che è possibile inserire è quella della scadenza delle domande, quindi il 10 giugno. Se il contratto dovesse essere il 30 giugno o il 31 agosto non si può inserire una data successiva. Nei casi in cui non si maturino i 166 giorni minimi per poter avere il massimo punteggio ma ci sia un servizio comunque continuativo dal primo febbraio agli scrutini che consente di maturare il punteggio massimo, si può spuntare questa voce. Bisogna poi indicare le istituzioni nella quale è stato prestato il servizio, la provincia e il comune. Clicchiamo infine su inserisci. Ritorniamo alla pagina principale e passiamo alla compilazione della sezione sui titoli di riserva. Esistono infatti delle quote di posti riservati a determinate categorie che troviamo qui elencate. La maggior parte sono beneficiari della legge numero 68 del 1999 a cui si aggiungono i volontari in ferma breve prefissata e gli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale da non confondere con quello nazionale. Il servizio civile universale è quello istituito ai sensi del decreto legislativo numero 40 del 2017. Solo questo dà diritto alla riserva dei posti. Una volta conclusa questa sezione, clicchiamo su inserisci. Se non si rientra in nessuna di queste categorie, si clicca su indietro. Vediamo ora la sezione titoli di preferenza. È possibile infatti inserire dei cosiddetti titoli di preferenza che servono per determinare l'ordine in gradatoria in tutti quei casi in cui ci siano più candidati con lo stesso punteggio. Una volta compilata la sezione, basta cliccare su inserisci. Se non si possiede nessuno di questi titoli, si clicca su indietro. Passiamo ora alla compilazione della sezione obbligatoria sulle altre dichiarazioni. In questa sezione bisogna dichiarare alcuni requisiti come la cittadinanza, il godimento dei diritti civili, l'iscrizione nelle liste elettorali, la dichiarazione di assenza di certe condizioni ostative o di eventuali sanzioni disciplinari nell'insegnamento, la dichiarazione di consapevolezza ed accertamento dei requisiti di ammissione molto importanti e segnalo che io ho selezionato anche quest'ultima voce in quanto è inserita in una di queste gradatorie a esaurimento, ma molte persone invece non dovranno scontare questa voce. Ci sono poi altre dichiarazioni molto generali, il consenso della privacy. Infine passiamo alla compilazione delle sedi per le gradatorie d'istituto. Ricordo infatti che attraverso questa domanda non ci si scrive solamente nelle gradatorie provinciali per le supplenze, ma anche nelle gradatorie di singoli istituti scelti da noi all'interno della provincia di iscrizione. È possibile scegliere fino a un massimo di 20 scuole per ogni classe di concorso o posto. In questo modo ci si inserisce nelle gradatorie di tali istituti per tutto il biegno e si ha la possibilità di essere convocati da tali istituti per le supplenze temporanee, cioè tutte le supplenze ad esclusione di quelle al 30 giugno e al 31 agosto per le quali invece si convoca da GPS. Per scegliere tali 20 scuole clicchiamo questo bottone blu gestione sedi, clicchiamo su aggiungi sedi, selezioniamo il comune, oppure possiamo anche indicare il codice meccanografico se lo conosciamo, ma è più difficile conoscerlo. clicchiamo su cerca, selezioniamo le scuole di interesse, clicchiamo su inserisci. Una volta concluso, clicchiamo su indietro e torniamo alla nostra domanda. L'ultima sezione è quella degli allegati che deve essere compilata esclusivamente in casi particolari come il possesso di titoli esteri oppure di certificati medici relativi a situazioni precedentemente dichiarate nella domanda. I titoli di servizio e quelli culturali invece si autocertificano automaticamente attraverso la compilazione delle precedenti sezioni, non bisogna allegare nulla. Una volta conclusa la domanda, clicchiamo su inoltre. Per ulteriori informazioni vi rimando al sito www.orizzontescuola.it e Question Time sul canale YouTube di Orizzonte Scuola e la pagina Facebook. Buona compilazione e a presto!